ma bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video oggi vi farò vedere la mia map la chiamata mosquitana qui come potete vedere nella review che a me è anche molto carino vabbè manda le ciance andiamo a provarla uso 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 pazzo ma si dai qui botta andiamo andiamo cercare di vincerla qui perci vedere che sono molto buono e scherzo sono una buio andiamo andiamo mostro buono 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 e niente cocio fai schifo mi ha fatto come ha fatto io ho una parola sul serio vabbè ci riproviamo c'è sempre noi la parla non c'è fatto nessuno occhio occhio questi qua accidenti lombardino che stai facendo perché non giochi da bene dai 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 siiii gol è 1-0 per noi attenzione attenzione ho spawnato anche qui prima ah si 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 dai e niente vabbè dai almeno ho salvato la situazione per secondo me potevo prenderla poi andare a fare gol però vabbè dai continuiamo continuiamo ai brutta palla lombardino unico time di difesa adesso c'è anche il proccio aiuto 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 è fortuna sfortuna sfortuna totale vabbè dai a questo è gol e raga abbiamo vinto bene facciamo un'altra cambiamo due con franca 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 qui abito stellare ok buono perfetto andiamo anzi dopo facciamo quella con eh modificatori andiamo 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 anche questo non vince ovviamente ecco ho avuto a sprecare il gadget e che faremo molto buono 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 io l'ho tirato in faccia eh vabbè oh no che c'è spaccato tutta la barriera nooo ho sbagliato totalmente accidenti no 都 non possiamo riusciarcione dai 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 def tiro buono non ha fatto gol come così vabbè è il primo fa qualcosa di giusto dai 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 corta di impareggiarla grande ulti boom perfetto vinto e ovviamente sono io migliore adesso siamo i modificatori tutti perché già è una vita complicata figuriamoci con questi quali a chi posso usare non so farlo è energetico andiamo oh no questo è un accidente la posta di data ulti boom sono morto no non sono morto e vabbè dai ci sta è duro tutti i modificatori qui no ci ho scavato tutto no no bien no bien si vabbè sei stupido il primo devi vincere malissimo buono sono a zero per noi visto che roba che ho fatto ha fatto il fail no 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 ma non per fortuna che c'era lì 8 win sennò questo qua era goal che botta di quello che ho avuto oh non sto guardando più niente dai 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 che siamo avanti dobbiamo resistere questo minuto qua dai 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 magari anche fare un altro cosa ci riesce un buono buono vabbè ha vinto la risa dai va bene per questo video è tutto e non ci vediamo in un prossimo video ciao